musica 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 ok stronzate aperte torniamo normali torniamo alla normalità ah 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 torniamo da quel tizio la che non è proprio la normalità ma va bene lo stesso ok che diavolo devo fare torniamo a nipton 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 fonte di goose prince gorilla clemente quanti bei ricordi pessimi ricordi pessimi ricordi ok nipton road area di servizio di nipton 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 ok che diavolo devo fare con chi cavolo devo parlare adesso non è che mi hanno fatto un brutto scherzo quei bastardi eh il loro cane bastardo bastardi gran bastardi puntini puntini oh no puntini puntini no che diavolo vuol dire qua dentro casa nipton mmm mmm si troia oh mio dio oh mio dio no no robot malvagio non ospitevole preparami un drink aspetta la mia autorità ok ho vinto io ho vinto io celda di energia si certo ovvio perchè no latte no grazie io non bevo latte io bevo solo whiskey whiskey e bottiglie vuote e detergente a braxo no quello è meglio che non lo bevo ok ci sono ci sono terminale non mi interessa ah vabbè leggiamo sessione computer center specifiche le cose stanno finalmente nell'entrambi i guzzi ma chi se ne frega chi se ne frega ehi amico chi se ne frega legionario no un mio compagno caduto ehi amico sei morto per una grande causa essere un gran figo in costume ninja mi mancherai oh merda oh merda che diavolo è stato ah ah ero io ok mi sono spaventato da solo cerca ilmo da recluta figo figo questo no la gonnellina non me la non la prendo orecchio della legione certo perchè no perchè no mi piace prendere l'orecchio alle persone che ho appena conosciuto è il mio hobby migliore ok dormiamo un'oretta tutto fatto cassaforte si 50 che fregatura devo aumentare il mio scasso devo aumentare la mia abilità di scassare le palle che è già molto alta banco di lavoro no non voglio lavorare io mi sto svagando ok allora qua devo che cosa diavolo devo fare ah qua c'è un puntino c'è un segnale devo andare in questa direzione e qualcosa succederà ve lo prometto qualcosa di importante e di rivoluzionario nella storia di tutta la no assolutamente no ok da questa parte marciamo dietro quella roccia proprio dietro a quella roccia ci sarà quello che sto cercando eeeh un bel cazzo di niente come immaginavo come immaginavo wow questa città deve smettere di fumare non è salutare perché diavolo c'è un puntino qua a good springs gorilla clemente hm eh nella missione sono andati di la chi me lo spiega dio ok ok l'altro che roba è novak non voglio andare a novak oh nooo ok ok pare che dovrò andare a novak sarà un lungo viaggio gente preparatevi perché sarà un lungo viaggio lungo avete capito incamminiamoci o prima dovrei saccheggiare meglio nipton ma si non l'ho esplorata quasi per niente magari scoprirò qualcosa di rivoluzionario probabilmente no probabilmente solo cianfrosaglia ma io adoro la cianfrosaglia biondo smettila di giocare mentre gioco su serio biondo hai rotto ehi ehi cosa ti ho appena detto brutto bastardo ok ok questa casa non ha una porta molto conveniente eccola eccola perché ci sono teschi su ogni stupida casella postale macchinina chi mette la macchinina ehi 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 fammi aprire la porta ok toc toc chi è? il loppo cattivo ah ok è l'unica casa in cui sono già stato conveniente molto conveniente come diavolo si correva così ok bene oh oh mio dio oh no sono intrappolato in un quadro no ok banco da ricarica come se mi servisse ricaricare io non ricarico mai non mi serve ricaricare io sono troppo uh stura lavandini stupendo ok casa inutile via di qua via di qua radio 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 amatoriale meglio il porno amatoriale ok via di qua via di qua la scuola certo certo perchè no ah forse sono qua dentro certo avrebbe senso li ho incontrati qua ah sono stupido perchè non ci ho pensato prima ok tizio morto ah magari la mia scuola fosse così magari tutte le scuole fossero così vestito racolono ah un'altra bene mi ha fatto a non vederti tesoro wow wow oh ehi via via ok ok qualcuno ha fatto una strage qua ehi ehi devo usare il bagno ci metti molto? probabilmente si perché sei morto ok questo posto mi mette ansia non poca ansia e non dovrebbe perchè sono complice di questi omicidi perchè sono parte della legione ovvero lo sarò stupido scasso devo farlo alzare devo alzare lo scasso oh no oh no canino bastardo bastardo oh sei morto oh oh povero mi sento male a uccidere cani no no perchè mi fate fare questo io adoro i cani oh anche quelli ringhiosi con occhi rossi che mi uccidono in oh mio dio perchè mi fate fare questo io posso uccidere 3.000 persone ma non i cani dai andiamo malati pervertiti ehi 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 cagnolino buono 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 ti ho fatto affette oh si siete non siete altro che cibo per cinesi adesso si oh no no malato perverso ok ok andiamo di sopra ahhh 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 arma a ripetizione da cowboy si no un colpo solo devo riassegnare le armi lo farò mentre non registro il diavolo adesso non mi va municipio pieno riunioni riunioni divertente neanche per il cazzo ok letame o sega tu oh no 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 cattivo 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 niente biscottino niente biscottino non ti porto un giro a fare oh no no oh oh no ucciso dai cani ucciso dai cani ok questo è troppo questo è troppo ok stavolta stavolta gente col cavolo che mi faccio ammazzare dai cani col cavolo tubo di piombo li tuberò tutti ah ah fuori tre quattro sono fuori io io sono fuori sono fuori di testa perché cavolo mi son curato uovo di formica certo oh no ho bevuto il whisky adesso sono dipendente ehi ehi jet come va che spallo questo posto no è del whisky non una droga patata fresca certo la patata fresca mi darà un potere darà il potere oh si oh si siete fottuti ho appena mangiato una patata fresca sono carico carico di patata fresca oh si il tubero vi ha uccisi tutti potere del tubero attivato oh oh i tuoi genitori non stanno bene anche perchè non ce li hai oh no no non mi piace questo suono è il mio suono è il suono che mi piace di meno ok una mina mi è quasi esplosa in faccia devo stare più attento devo stare nascosto dalle mine che mi vedono e mi esplodono in faccia ah perchè tutto sto dicendo solo allusioni sessuali devo smetterla niente esplode in faccia a nessuno ok non nella mia serie ehi ehi ciao tesoro ti voglio ho un po' di fame ti spiace oh oh cosa ti sto facendo oh mi spiace oh scusa ci siamo appena conosciuti ma che vuoi farci sono così che giugno che giugno te giugno che giugno echi che giugno che giugno qui che dopo le e ti